Gecko's Garage Oh, sei arrivato un po' in anticipo Meccanici! Eric è molto impaziente di essere riparato Coraggio, dormiglioni Dovreste essere pieni di energia Vi siete ricaricati tutta la notte Forza, iniziamo a riparare Eric Così potrà ripartire Così potrà ripartire Così potrà ripartire Non capisco che cosa gli prenda oggi. Oh, hai ragione, Eric. La loro stazione di ricarica non era attaccata. Non c'è da meravigliarsi che siano stanchi. Su, coraggio, dormiglioni. È ora di ricaricarsi. Oh, scacco matto. Sì! Ok, meccanici, le vostre batterie sono di nuovo cariche. Quindi, mettetevi tutti al lavoro. Abbiamo finito. Ciao, ci vediamo presto, amici, qui all'officina di Jack. Yeah! Ah! Oh papi